Oggi in terza commissione abbiamo discusso delle modifiche al testo unico del commercio. Noi del Partito Democratico abbiamo chiesto innanzitutto che venga abrogato l'articolo che consente l'apertura di nuovi centri commerciali nella nostra regione. L'Abruzzo non ha bisogno di ulteriori centri commerciali, anzi abbiamo bisogno di migliorare e qualificare la presenza delle piccole botteghe, soprattutto nelle aree interne. Quindi diciamo un grande no e chiediamo l'abrogazione dell'articolo che prevede nuove aperture di grandi centri commerciali nella nostra regione, anche perché c'è già una moratoria che vieta l'apertura di centri commerciali fino al 31-12-2021 e non vogliamo assolutamente che si proceda in questo senso. E poi abbiamo presentato un emendamento specifico per i prodotti sfusi. Chiediamo di inserire questo nostro emendamento che consente, sulla base di altre norme nazionali e altre regioni hanno seguito questo esempio come le Marche, di inserire un emendamento che consente a tutti gli esercizi commerciali di avere degli angoli per la vendita di prodotti sfusi o alla spina. Pensiamo di promuovere questo aspetto, promuovere questa forma di commercio, aiutare sia i produttori ma anche e soprattutto i commercianti e i cittadini utenti. Per ultimo vorremmo inserire un altro emendamento che consente di aprire e soprattutto di riaprire le edicole soprattutto nelle aree interne. Un servizio fondamentale circa la comunicazione e l'informazione. Tante piccole edicole hanno chiuso, soprattutto nelle aree interne del nostro territorio e chiederemo a questa maggioranza di inserire un nostro emendamento con specifiche risorse su questo tema particolare.